Bentornati per la quarta volta al dojo di Cobra Kai, o forse era quello di Eagle Fang, chi lo sa. Wabalabadabdabe, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Serie TV. Con grandissimo piacere continuo a parlare di Cobra Kai 4, che continua in perterrito come un treno nella sua corsa alla nostalgia, anni Ottanta comunque. Continua a farci scalpitare, a costringerci a questo binge-watching, perché non ci si può staccare da questa serie TV che è super intrecciata tra i suoi personaggi. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che ve frega, di condividere il video con tutte le persone che praticano arti marziali e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questa quarta stagione e di quale stagione preferite finora. Vi ricordo sempre di seguirmi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch, così potete rimanere aggiornati su quello che faccio oltre a YouTube. Per esempio, stasera uscirà una mia live in cui parlerò di anni Ottanta, ma non di Karate Kid. Però, se volete seguirmi su Twitch, qua sotto in descrizione trovate tutti i link. Come ho detto all'inizio, la quarta stagione di Cobra Kai mi ha lasciato soddisfatissimo, come le altre, perché non riesci a staccare lo sguardo. Sei rapito, perché vuoi scoprire come andrà a finire, vuoi scoprire se i villain otterranno quello che si meritano, vuoi scoprire se i protagonisti otterranno un pochino della giustizia che meritano dopo i sopprusi delle prime stagioni, del loro passato, e tutto questo ti coinvolge, ti rapisce fino alla fine degli episodi. Gli episodi non sono lunghissimi, sono circa di 40 minuti e sono una tredicina di episodi a stagione. Quello di cui però mi sono reso conto a mente fredda di quello che mi ha lasciato questa stagione è che forse mi sarei aspettato, avrei preferito, uno sviluppo delle relazioni umane tra i personaggi diverso da quello che ho visto, o da quello che non ho visto in un certo senso. Ed è proprio attraverso queste relazioni umane che voglio un po' sciorinare questa serie per riuscire a capire meglio i punti. Cominciamo con il rapporto tra Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, i due protagonisti di Karate Kid, la cui rivalità è tale da aver generato questa serie tv. Qua il rapporto è uno dei rapporti più approfonditi, più sviluppati all'interno di questa quarta stagione, però, voglio dire, è una cosa che abbiamo già visto. A parer mio non ci sarebbe stato bisogno di riprendere il discorso. È vero che la stagione è Cobra Kai, è vero che è basata sulla rivalità tra Cobra Kai e Miyagi-Do, ma nella terza stagione ci avevate lasciati con il Cobra Kai, scusate, Johnny Lawrence che ha fondato questa nuova scuola, l'Eagle Fang, e il Miyagi-Do di Daniel LaRusso che cooperavano contro il Cobra Kai. Qua nella quarta stagione vediamo che non riescono a cooperare insieme perché sono troppo diversi e si riaccende una vecchia rivalità. Tutto molto bello, ma tutto molto già visto. La rivalità è data anche dal fatto che Johnny Lawrence si sente un po' geloso verso i suoi allievi dell'Eagle Fang che vengono addestrati con il metodo Miyagi-Do, in particolar modo verso Miguel, suo figlio adottivo, anche se non ufficialmente è, diciamo, l'allievo da cui è partito tutto, quello che dovrebbe essere, tra l'altro, il protagonista della serie, che invece in questa stagione ha un ruolo davvero marginale, davvero passa in secondo piano, Miguel, se non quando viene visto attraverso gli occhi di Johnny Lawrence, e nemmeno all'inizio della stagione. Più o meno a metà si inizia a capire che esiste anche Miguel, che esiste di nuovo anche Miguel, e sempre attraverso gli occhi di Johnny, che gli deve comunicare il fatto che sta frequentando sua madre, che finalmente è sbocciato l'amore contragambiato da sua madre, che lui a tutti gli effetti diventerà una sorta di figlioccio, e si sviluppa questo rapporto di gelosia da parte di Johnny nei confronti di Daniel Russo come suocero fondamentalmente di Miguel, dal momento che Miguel torna a frequentare Samantha Larusso, e anche della, in un certo senso, gelosia, o comunque senso di inferiorità, senso di inadeguatezza, di Miguel verso Johnny, che lo vorrebbe come un padre, ma si sente sempre messo in secondo piano, da tutto l'amore frustrato che Johnny Lawrence ha per il figlio Robbie, che invece lo sta ripudiando da ormai tre stagioni. Come ho detto, Miguel non è sfruttato assolutamente, a parer mio, in questa stagione, se non per mostrare gli aspetti degli altri personaggi verso di lui. Solo nel finale, un pochino, il protagonista cerca di riprendersi la sua serie, però non ha lo stesso mordente delle altre stagioni, la scena gli è rubata totalmente dai suoi comprimari, e per esempio anche solo il rapporto tra lui e Samantha appare quasi più immaturo che nella scorsa stagione. Vediamo come Samantha e Miguel non riescono assolutamente a avere un rapporto maturo. Vediamo quasi di più Robbie e Tori avere un rapporto più maturo, più maturo nel senso che loro due riescono a sviluppare un'amicizia, un'intesa, un'infatuazione amorosa, un amore che va a farli andare avanti rispetto alle storie passate. A un certo punto Tori e Robbie non gli importa più se Miguel e Samantha sono gelosi di loro, semplicemente stanno bene insieme. Mentre, d'altro canto, Miguel e Sam, quando guardano Robbie e Tori, i rispettivi ex, hanno ancora dei conti in sospeso, e questo fa vacillare la loro relazione che ai nostri occhi sembra molto più immatura di quello che non sembrava nella stagione scorsa. Ed è un peccato, dato che questi dovrebbero essere i buoni, i protagonisti dovrebbero essere, dovrebbero avere una superiorità morale, invece sono più immaturi, sono più bambini. E qui andiamo in una invece delle relazioni più accese, più sviluppate di questa quarta stagione, dopo quella tra Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, ovvero quella tra Tori e Samantha, la relazione di odio, ovviamente, di rivalità, di rabbia, dopo tutto quello che c'è stato. Samantha vuole vendicarsi a tutti i costi di quello che Tori le ha fatto, ricordiamo che nel finale della seconda stagione gli ha sfregiato un braccio con un'arma assolutamente non convenzionale, con una sorta di tirapugni con i graffi. Nella terza stagione gli è entrata in casa, quindi violazione di domicilio, gli ha distrutto la casa, l'ha malmenata di nuovo, ovviamente si è presa una bella rivincita già nel finale della terza stagione, ma vive un po' questo rapporto tra il voglio vendicarmi di Tori al torneo e flashback del Vietnam in cui lei ha paura, ha paura comunque di questa ragazza, paura che viene mostrata soprattutto nel finale, quando si trova al torneo. Quando Tori forse pian pianino inizia a ravvedersi anche grazie a questo Deus Ex Machina che è la madre di Sam, la madre di Samantha che capisce che la violenza non è la risposta e vuole aiutare Tori perché si rende conto che non è un villain macchietta ma è una ragazza giovane con dei problemi, problemi che la sua figlia nemmeno si sogna, e vuole cercare di aiutare sua figlia Samantha aiutando Tori perché se elimina da Tori tutta la rabbia che lei ha in corpo non è neanche più un pericolo di Samantha, è inutile dire che Samantha questa cosa la vede come una minaccia, vede come la madre sembra quasi che si preoccupi più di Tori rispetto a sua figlia. Ci sta tantissimo, è ovviamente una reazione naturale, ma sono felice che invece la madre di Samantha sia riuscita in qualche modo a togliere tutto questo odio, tutta questa rabbia da Tori che forse nella prossima stagione avrà l'arco narrativo più interessante e spero finalmente chiuda questo rapporto in modo pacifico con Samantha. Ho parlato prima di Tori e Robby che si stanno un pochino frequentando da compagni di corso, compagni di dojo, ma anche entrambi hanno un ex in comune che stanno a loro volta stanno insieme, ovvero Miguel e Samantha. Qua iniziano un po' questo strano rapporto, molto tidubante, perché Tori e Robby sono entrambi molto scontrosi, molto chiusi, è impossibile quasi che si frequentino, ma è forse la relazione più telefonata dall'inizio della serie e finalmente si mettono insieme, o quantomeno finalmente hanno un momento amoroso insieme. era chiaro che sarebbero finiti insieme per noi che li vediamo da fuori, ma nel contesto narrativo era dura abbattere questo muro che finalmente è stato abbattuto e forse anche l'amore tra queste due persone che hanno davvero molti problemi forse riescono insieme ad aiutarsi a vicenda e a maturare finalmente, quello che vedremo nella prossima stagione, ma già nella fine di questa quarta stagione abbiamo visto Tori e Robby intraprendere un percorso in solitaria, per carità, che li ha portati a maturare e essere delle persone migliori. Un altro rapporto che avrei voluto vedere sviluppato in questa stagione, che invece onestamente a parer mio non ha avuto lo spazio che meritava, è il rapporto tra Eli, il Falco, e Dimitri, o più semplicemente alla crescita del Falco in questa stagione. è vero, nelle stagioni passate ha rubato spesso la scena a Miguel, ma perché fondamentalmente il suo percorso è stato anche più interessante di quello del protagonista stesso, però dal momento che la sua redenzione era stata relegata all'ultima scena finale della terza stagione avrei preferito vedere un percorso, diciamo, di ritorno alle origini un pochino più costruito, soprattutto nel rapporto con Dimitri, che invece ha solo uno spazio, solo una scena in cui si sono dedicati a lui. Poi, invece, c'è, diciamo, un occhio di riguardo appunto a Falco nel momento in cui gli dedicano una puntata, una puntata in cui il Cobra Kai si vendica per il suo tradimento e come Sansone gli tagliano la cresta che tanto gli aveva dato sicurezza e lo fanno in qualche modo tornare ad essere Eli. È una roba un po' strana, però ci può stare, soprattutto nell'adolescenza, la nostra immagine che abbiamo di noi, l'immagine che creiamo per mostrarci forte di fronte agli altri, spesso è l'unica arma, l'unico scudo che abbiamo per la nostra sensibilità, la nostra fragilità. Quindi ci può stare che un adolescente che perde il suo aspetto e torna all'aspetto precedente tant'è che i suoi vecchi compagni del Cobra Kai quando non ha più la cresta da Moicano non lo chiamano più Falco ma hanno ricominciato a chiamarlo Labbro che era il dispregiativo con cui lo chiamavano e lo bullizzavano prima. Però ecco, anche questa cosa avrei preferito vederla un pochino più sviluppata perché, ripeto, Falco, se non si fosse capito, è il mio personaggio preferito. Anche qui, nel finale, Falco si riscatta perché finalmente capisce che non deve essere per forza una maschera aggressiva di quello che ha dentro ma deve concentrare la sua energia nella via del Miyagi-Do e quindi inizia a capire finalmente chi è in questo finale di stagione. E infine il rapporto tra Robby e Kenny. Kenny, questo nuovo ragazzo che viene trasferito da un'altra scuola e affronta la scuola media quindi non è neanche grande come Robby è molto più piccolo tant'è che Robby diventa un mentore per Kenny e vediamo finalmente Robby affrontare il concetto della paternità il concetto di mentore dall'altra parte quindi lui non è più l'allievo, non è più il figlio di Johnny non è più l'allievo di Daniel ma è il mentore di Kenny e si rende conto di quanto un padre, un mentore sia fondamentalmente un essere umano che sbaglia e trasferisce i propri errori al proprio allievo e lui si rende conto anche qui nel finale della quarta stagione di come non sia così facile fare un padre di come abbia sbagliato con Kenny che viene trasformato da ragazzo bullizzato a bullo ossessionato dalla rabbia, dalla vendetta e questo lo porterà a avere una catarsi sul suo rapporto con suo padre Johnny finalmente forse, forse nella quinta stagione questo rapporto si riappacificherà ho parlato di Kenny, non posso parlare di Kenny senza parlare di Anthony Larusso personaggio assolutamente inutile nelle prime due stagioni forse anche nelle prime tre lo abbiamo già visto anche nella terza stagione che era notevolmente cresciuto l'attore che interpreta questo bambino che adesso appunto è un preadolescente e qua finalmente hanno sviluppato una trama su Anthony Larusso e proprio perché era assolutamente inutile nelle prime tre stagioni e forse questa la sottotrama che più ti fa ti infastidisce all'inizio perché dici ma cosa me ne frega di questi bimbetti fatemi vedere i protagonisti che amo da tre stagioni ma poi diventa una delle sottotrame più interessanti di questa quarta stagione è buffo vedere come il figlio di Daniel San che è stato bullizzato in Karate Kid diventi a sua volta un bullo come Daniel San non riesce comunque a gestire a travasare in Anthony tutti i suoi insegnamenti e tant'è che lui diventa quello che è stato Johnny Lawrence ai tempi e un ragazzo del Cobra Kai diventa il Daniel Larusso salvo poi appunto a prendere troppo gli insegnamenti negativi del Cobra Kai ecco forse in questa relazione vediamo più di tutti il concetto che era proprio di Cobra Kai e che ormai si sta perdendo ovvero il concetto di Karate Kid ribaltato in questa prospettiva perché appunto Cobra Kai è il titolo della serie Cobra Kai è il protagonista e quindi si è un po' perso il focus sul fatto che in questa serie Cobra Kai dovrebbe riscattare il suo nome e il Miyagi-Do e Daniel Larusso che era visto come una sorta di cattivo doveva essere rimesso al suo posto invece qua gli equilibri sono tornati quelli degli anni 80 dove il Miyagi-Do è il buono e il Cobra Kai è il cattivo Cobra Kai cattivo ma non capitanato da Johnny Lawrence tant'è che Johnny Lawrence se ne è appunto andato fondando Legal Fang e il Cobra Kai è rimasto ai suoi vecchi originari fondatori John Kreese che già abbiamo visto dalla stagione 2 e Terry Silver che arriva in questa stagione Terry Silver è l'antagonista di Karate Kid 3 ecco il rapporto tra John Kreese e Terry Silver è molto strano non è scritto benissimo perché John Kreese è stato un figlio di puttana fino a questa stagione qua ok vediamo che il suo punto debole è Johnny Lawrence e questo lo posso capire è coerente al personaggio ma non è molto coerente che fino a tre quarti di stagione John Kreese è più cattivo di Terry Silver e a un certo punto Terry Silver cambia improvvisamente e diventa lui più cattivo di John Kreese tanto da scalzargli il ruolo è vero che è uno psicopatico e quindi questo atteggiamento passivo-aggressivo non si nota fino alla fine ma mi sembra un pochino forzato fatemi sapere voi se avete avuto anche voi questa sensazione o se vi è sembrato tutto naturale questa evoluzione di relazione tra John Kreese e Terry Silver questa serie mi è piaciuta molto però la prossima stagione voglio che sia l'ultima perché inizio a notare della ripetitività che per carità non stanca mai soprattutto a questo effetto nostalgia imperante che c'è in questo periodo soprattutto sugli anni Ottanta però non voglio che superi la sua naturale data di scadenza e la sua naturale data di scadenza inizia già a sentirsi hanno lasciato delle trame aperte quindi chiaramente questa stagione non può essere l'ultima ma lo sapevano perché l'avevano rinnovata per due stagioni spero che la quinta stagione sia l'ultima e concluda degnamente questa saga e che non vada troppo ad allungare il brodo io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video se non ho detto abbastanza e volete che dica di più seguitemi su Twitch che nelle live c'è sempre più tempo per parlare di qualunque argomento che tratto su YouTube arrivederci